agenziale cirque per vendere o acquistare la tua casa agenziale cirque professionisti al tuo servizio ben trovati al meteo è ancora l'alta pressione a comandare l'andamento del tempo sul nostro territorio mercoledì 25 novembre sarà una giornata stabile la situazione nel dettaglio sul veneto condizioni di bel tempo su tutta la nostra regione la grafica infatti ci mostra un ampio soleggiamento su tutti i settori il cielo si presenterà sereno al massimo velato ovunque e non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota temperature minime tra meno 1 e 3 gradi massime invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia dove avremo lo stesso scenario anche qui il sole sarà decisamente dominante il cielo sgombro da nubi temperature minime fino a 3 gradi massime sui 10 12 all'incirca infine uno sguardo al trentino alto adige non cambia di molto anche in questo caso sarà soleggiato salvo per locali e nuvolamenti ma del tutto innocui temperature minime intorno a meno 1 meno 2 gradi massime invece fino agli 11 gradi dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in compagnia di antena 3 agenziale cirque per vendere o acquistare la tua casa agenziale cirque professionisti al tuo servizio 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 servizio